Salve gente! Allora, siamo a poche ore dall'esordio di questo europeo Italia-Turchia questa sera e andiamo con una partita che potrebbe essere, sulla carta, risultare non complicata però gli esordi sono sempre un po' partite rischiose perché ci sono tante emozioni c'è sicuramente tanta voglia di far bene, però sono quelle partite che possono essere un po' danciampo e bisogna affrontarle nel modo giusto, con convinzione e subito dimostrando quello che sappiamo fare insomma abbiamo dimostrato in queste partite che la Nazionale ha trovato un buon gioco ha trovato un allenatore che è riuscito a creare un gruppo anche se questo gruppo ha perso qualche pezzo strada facendo proprio negli ultimi tempi ultimo Pellegrini, mi spiace molto, penso che fosse uno degli elementi più importanti del centro campo e comunque nel gioco della Nazionale va bene, viene sostituito da Castrovilli che quest'anno non ha fatto benissimo però insomma è un giocatore che è strano, strano perché se becca la serata buona è un gran bel giocatore vediamo se riesce in estremis a entrare nel gruppo e a dimostrare quello che ha dimostrato magari nei periodi migliori con la Fiorentina comunque aspettiamo ancora qualche ora e poi ne andremo a parlare subito dopo magari la partita intanto tu che stai vedendo questo video se ancora non lo avessi fatto iscriviti al canale non ti costa nulla, potrai sempre disiscriverti quando vorrai anche se non è che non sei laziale però parliamo anche di tante cose quindi provaci, iscriviti, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato e se ti andrà, solo se ti andrà, ma se lo fai io ti ringrazio se lascia un like al video prima di uscire da questo video, da questo canale comunque aiuti il canale e mi fa piacere a me e ti ringrazio allora voglio parlare un attimo del video di ieri ragazzi perché il video di ieri è quello dove ho messo un po' una formazione ho visto un po' quello che avevamo nella Lazio cioè quello che Sarri, di che materiale poteva usufruire ho visto che ha riscosso una buona discussione chi era un po' d'accordo, chi non era d'accordo chi faceva altri nomi va benissimo tutto ragazzi quello che però forse è sfuggito un attimino è che io non ho detto che questa sarà la Lazio o questa è la Lazio che io voglio questo forse è sfuggito perché molti giustamente andavano a criticare qualche scelta andavano a dire tipo perché Marusic è lì e non qui perché non ha messo Lukaku adesso rispondo a tutto ragazzi io quello che ho messo di base è secondo me quello che la Lazio può fare è il minimo che la Lazio può fare in base a quello che abbiamo meno di questo la Lazio non può fare nel senso se veramente vuole fare il primo anno qualcosa questo è il minimo poi è normale ragazzi allora voi mi dite ma non si può andare avanti come già avevo detto nel video che mi avreste detto questa cosa non si può andare avanti con Vavro e Patrick è vero però se dopo che abbiamo messo a posto quei sei nomi che possono anche essere altri c'è chi dice che è meglio Maximovic a zero che Ferrari a nove milioni per dire ci può stare ci può stare però per esempio io Maximovic lo ritengo lento e scoordinato invece Ferrari lo ritengo molto più agile diciamo molto più veloce nel muoversi nell'aria e meno scoordinato quindi lo pago di più ma mi dà più garanzie anche perché Maximovic ragazzi ricordo che l'ultimo anno di Sarri ha avuto più di una discussione con Sarri non è proprio io non so convintissimo che Sarri abbia fatto il nome di Maximovic i sai può essere ma Maximovic mi ricordo che ci sono stati scintille tra lui e Sarri quindi non lo so comunque voi volete Maximovic beh venga ripeto sempre meglio di Ode anche se non siamo lontanissimi però meglio di Ode e poi non solo Maximovic comunque viene a zero ma si parlava anche che vuole tre milioni cioè non li davano a Sarri li danno a Maximovic ma vedremo vedremo comunque di base ragazzi è una formazione dove ci sono giocatori che vengono messi lo so benissimo non nella loro posizione ideale è meglio Maruzic dietro a fare il terzino destro o sinistro addirittura piuttosto che il laterale di centrocampo probabilmente sì però chi posso adattare lì meglio di Maruzic? di quelli che abbiamo? nessuno allora molti mi dicono ma come ala perché non Lukaku? perché mi sono scordato di Lukaku? no ragazzi non mi sono scordato di Lukaku però secondo me Lukaku rientra in quel giro di giocatori che possono far mercato perché altri non c'è sta proprio mercato cioè non penso che Durmisi fa mercato ragazzi quindi non è che mi sono scordato Lukaku perché io penso che Ioni non abbia mercato e possa rimanere rosa a fare qualcosa mentre Lukaku penso sia uno di quelli sacrificabili di quelli di rientro perché è uno che quest'anno è riuscito quasi a fare un campionato intero rispetto agli altri anni con la Lazio che invece stava perennemente fermo quindi non so anche Lukaku stesso quanta voglia abbia di riaffrontare una stagione con la Lazio quando ha visto che fuori magari riesce a giocare di più per questo io non l'ho messo ma poi se viene scelto Lukaku venga perché se lo scelgono vuol dire che va bene però ripeto io ho fatto un ragionamento in base a all'idea che secondo me la Lazio avendo finito il campionato scorso il rosso perché stiamo parlando di 17 milioni se non sbaglio di il rosso sappiamo benissimo che Lodito sta molto attento a queste cose quindi non si va ad indebitare per creare una squadra deve cercare di trovare diciamo liquidità all'interno di quelle che è la gestione dei giocatori anche Correa la gente dice no però Correa è un peccato ho capito ragazzi però se non va via Correa come la finanziamo sto mercato è sempre lì poi per carità se la Lazio non vende nessuno se Lodito vuole spendere veramente 50 milioni di tasca sua tutto quello che viene oltre quel video che avete visto ieri oltre quei nomi che avete visto ieri ben venga tutto cioè io non è non è che io che dico no quella è la Lazio migliore quella è la Lazio di base cioè che sotto quella Lazio rimarrete eluso perché nonostante vado a recuperare dei giocatori nonostante vado a diciamo ad adattare dei giocatori se non mi prendi ne manco quei sei nomi che so o quei sei che dico io ma ovviamente non saranno quei sei o comunque nomi similari comunque se non mi vai a sistemare alcune situazioni ma meno di così meno che ricicla Vavro o Patrick meno che ricicla Ioni cioè che devo fare è normale che se mi comprano dieci giocatori e quindi mi vanno a sostituire anche Patrick anche Vavro anche Ioni sono contento però partiamo da una situazione realistica ovvero senza montarci la testa con duecento nomi che ci vengono dati dal portiere all'attaccante ieri ancora si parlava di Insigne dice non è solo un sogno non è solo un'idea Insigne c'è molto di concreto ben venga ben venga Insigne la Lazio sarei contento a me piacerebbe l'accoppiata Insigne immobile onestamente molto veloce molto particolare cioè si conoscono bene sono affiatati ma ben venga dall'altra parte politano ma ben venga Bernardeschi ben vengono tutti ragazzi ma partiamo però da quello che è lo storico dirotito ovvero fare magari dare un qualcosa ma a discapito di altro quindi partiamo da una cosa cioè il discorso di ieri del video era partiamo da una base e questa è la nostra base cioè questi sono i nostri giocatori e quelli che secondo me potrebbero restare o perché non hanno mercato o perché potrebbero comunque coprire dei buchi che ci sono poi possono anche variare questi vogliamo mettere Lukaku a posto di Ioni va benissimo se Lukaku è ritornato in forma e Sari lo ritiene che possa andare bene va benissimo e diamo via Ioni anche se non credo che abbia il mercato penso che abbia più il mercato Lukaku vogliamo tenere Marusic dietro non rinnovare a Radu mettere i Sai a posto di Radu e Marusic a posto di Sai va benissimo però bisogna comprare qualcuno a posto di Marusic lì bisogna mettere qualcuno è sempre questo gioco di spostare e comprare si può far tutto però sempre nella forma realistica poi se tutto quello che viene di più è ben accetto ragazzi però io non mi voglio fare l'illusione io non parto già ecco Sarri allora cioè non voglio fare l'errore che ho visto dall'altra sponda giallorossa fortunatamente non tutti i tifosi che appena è arrivato Murigno sono partiti 200 nomi e tutti sono andati magari è de qua de là è qua è Cristiano Ronaldo Donna Roma che poi si arrivano meglio per loro però penso che bisogna essere più realistici perché io vedo che si tratta giocatori si sta lavorando per abbassare che non spende 20 milioni spendene 18 insomma ricordo che la Roma ha ancora 200 milioni di debito che sicuramente verranno sanati però insomma anche dall'altra parte è un po' di realismo cioè si parte coscienti che magari il primo anno non avendo raggiunto competizioni importanti avendo dei limiti si può fare una squadra però non sarà la squadra dei sogni il primo anno poi lo stesso discorso vale anche per la Roma poi ben venga se gli comprano Ronaldo se arriva Donna Roma se comprano che ne so un centrocampista fenomeno tre difensori e lo discorso vale da una dall'altra parte non è che l'allenatore arriva l'allenatore importante e di conseguenza arrivano tutti i giocatori importanti ci sono dei budget ci sono dei costi che vanno mantenuti e purtroppo sia Roma che Lazio non essendo entrati in Champions avranno delle difficoltà anche in quell'aspetto poi la Roma sicuramente è una società che si può permettere di fare un investimento anche andando in rosso perché ha le spalle abbastanza coperte la Lazio no sia perché non rientra proprio nel nel modus operandi di Lodito e sia perché non ha capitali per poter sforare più di tanto e dare una garanzia di copertura quindi rimaniamo con i piedi per terra una squadra di base che secondo me è accettabile poi è normale ogni miglioramento sia che consigliate sia che effettivamente potrebbe venire è ben accetto però partiamo diciamo voliamo bassi che poi a spiccare il volo si fa sempre in tempo ultima cosa ragazzi vorrei lasciarvi la cosa che mi fa ride è il Murigno Costanzo Show ovvero binomio Murigno Costanzo Costanzo nuovo responsabile della comunicazione di Roma no scusa di Roma della Roma non diciamo stronzate quindi responsabile della comunicazione della Roma ha voglia di portare di unire tifoseria società di far conoscere meglio Murigno insomma farà qualche bello spettacolo appunto detto Murigno Costanzo Show perché già me lo vedo Murigno lì sul palco bello bello insomma pure Costanzo è un gran paraculo diciamo la verità comunque è curiosa questa cosa vediamo quello che ne esce fuori di certo è un professionista di lunga data quindi ha sicuramente conoscenze e mezzi per poter dare visibilità alla Roma vediamo quello che ne esce fuori sicuramente è curioso e non mancheranno i meme su questa su questa faccenda allora ragazzi in bocca al lupo alla nazionale per questa sera e ci vedremo sicuramente con il prossimo video riguardante proprio quello che sarà successo questa sera all'esordio con la Turchia olive dolci al prossimo video